Grazie a tutti. In numerosi formati e fragranze, sono il nostro fiore all'occhiello dal 1952. Una passione per l'eccellenza che si tramanda fino ad oggi. Per creazioni delicate, friabili, croccanti e di ottima permeabilità. Oltre ai coni, realizziamo cannoli e altre decorazioni in cialda per valorizzare ogni coppa gelata e dessert. Nascono qui anche i fogli di cialda per le nostre specialità dolciarie a base di baffer. È l'inizio della perfezione del gusto.